Oggi vi mostro uno dei miei regali di compleanno ed è, sono tre pezzi in realtà, della collezione di MAC Black Panther. Il primo pezzo che vi mostro è il rossetto, la colorazione è questa e la tipologia, ma è un matte, ve lo dico già, guardate il packaging, cioè, veramente stupendo. Io sono amante dei prodotti MAC, in particolar modo dei rossetti e degli illuminanti, e questo qui è un bellissimo colore, guardate tra l'altro anche l'interno del packaging, e questo qui è la colorazione. Sbocciato, come vedete, è un bel rosso, bellissimo. L'altro pezzo fortissimo è l'illuminante, ed è il Royal Challenge, lo andiamo ad aprire, anche qui il pack, bellissimo. Classico, è dei illuminanti dietro ma davanti, fatto così, e questa è la colorazione. Guardate anche la cialda, col simbolo di Black Panther. Ora ve lo sboccio perché è bellissimo. Questa è la scrivenza, tra l'altro. Vabbè, pazzesco. Questo qui è anche come ombretto o come punto luce nell'occhio, cioè, fa paura. Tra l'altro è un illuminante dorato, quindi anche quando sarò più abbronzata è sicuramente stupendo. E ora al pezzo forte, che è la palette, che è questa qua. Anche qui il packaging spacca. Bellissimo. Questi qua, tra l'altro, sono in rilievo. Così, la palette è magnetica, quindi stracomoda e non ingombra neanche tantissimo. Queste sono le colorazioni. Sono onesta, mi ricorda tantissimo Pat McGrath come colorazioni e come tipologia. Sono tutti, come vedete, metallizzati quasi, tranne il nero. E sono bellissime. Mi adorano di farci qualcosa. Fatemi sapere se volete vedere magari un video dove utilizzo questa collection. E questo era tutto. Insomma, chiudiamo questa palettina. E nel mente, grazie per avermi seguita. Ciao!